Nel primo wizard della compilazione assistita ci viene ricordato immediatamente che questo applicativo può essere utilizzato solo per successioni apertesi a partire dal 3 ottobre del 2006. Clicchiamo su Avanti. Ovviamente i primi limiti vengono immediatamente a galla in quanto non esiste alcun tool ad esempio per il calcolo automatico del codice fiscale, ma sono tutti dati che dobbiamo andare ad inserire in maniera manuale. E' deceduto in provincia. Ovviamente per cercare la provincia non è inutile scrivere la sigla ma solo la prima lettera perché altrimenti non troviamo la provincia desiderata. Idem per il comune, se cerco Milano continuo a cliccare sulla lettera M fino ad individuare il comune. A questo punto vado allo spazio riservato a chi presenta il modello, codice carica, ad esempio, erede e andiamo a inserire codice fiscale, cognome e nome delle rede. Avanti, tipo di dichiarazione non è ancora presentata, quindi vado avanti. Se Mare Rossi possiede terreni o fabbricati, diciamo che possiede solo terreni, avanti, possesso dei beni. Quindi vado a inserire eventuali passività aziendali, eventuali donazioni sono state fatte. Lascio tutto a no perché non ha neanche navi, imbarcazioni o altro. Non sono un utente abilitato ai servizi telematici e alla fine terminiamo quella che è la procedura.